Cosa cambia nel concreto dal 1 luglio 2019? Dal 1 luglio 2019 cambia che le attività commerciali che hanno un giro d'affari superiore ai 400.000 euro devono adeguarsi con i nuovi registratori telematici connessi ad internet che in pratica inviano lo scontrino direttamente all'agenzia delle entrate. Questo comporta che per la massima parte i commercianti, gli esercenti e anche altre categorie dovranno provvedere all'acquisto di un nuovo strumento perché quelli precedenti non sono atti a questo tipo di funzione. In che modo Confesercenti supporta i propri associati? Innanzitutto abbiamo stipulato una convenzione con un'azienda locale che può fornire questo tipo di consulenza e anche di strumentazione a prezzi convenienti e anche con agevolazioni e dilazioni. Dopodiché proprio sul piano della consulenza siamo a disposizione presso i nostri uffici per spiegare per filo e per segno come questa cosa deve essere affrontata tutti gli adeguamenti normativi che devono essere posti in essere nelle varie attività perché poi da settore a settore ci sono delle differenze. Dicevo prima che dal 1 luglio parte l'adeguamento per chi ha un giro d'affari superiore ai 400 mila euro ma dal 1 gennaio 2020 questa cosa viene applicata a tutti quindi per forza di cose e senza moratori o senza agevolazioni da un punto di vista delle sanzioni per cui per forza di cose bisogna che le attività si adeguino al più presto in modo da essere pronti perché poi dal 1 gennaio non ci sono deroghe o sconti. Quali sono i punti critici che avete individuato? Sicuramente proprio all'atto pratico ci sono tante piccole attività che non hanno nemmeno la connessione internet perché finora non hanno avuto necessità e pertanto anche questo è un problema da risolvere perché ci vogliono anche dei tempi tecnici per avere la linea dopodiché proprio il fatto di passare a volte dalla ricevuta cartacea e neanche dello scontrino precedente a quello che è telematico è un salto importante che tanti fanno proprio fatica a fare soprattutto perché magari si trovano in età avanzata ed è una cosa che fanno un po' fatica ad accettare insomma Dal 1 luglio 2019 tutte le attività commerciali che hanno un fatturato superiore ai 400.000 euro devono adeguare piuttosto che cambiare il registratore di cassa per che questo comunichi le chiusure giornaliere direttamente all'agenzia delle entrate questo è un cambiamento molto importante per gli esercenti tutti i corrispettivi devono essere comunicati telematicamente all'agenzia delle entrate la platea si allargerà ulteriormente dal 1 gennaio del 2020 in quanto saranno coinvolte tutte le attività commerciali tranne qualche eccezione e se possono essere i minimi i forfettari piuttosto che coloro che rientrano nelle attività esenti quali i tabacchi piuttosto che le agenzie di viaggio o comunque le attività esenti dall'IVA per tutte le altre attività commerciali c'è questo obbligo noi confesarcenti e in generale i commercialisti o coloro che danno assistenza fiscale devono lavorare di concerto con i tecnici dei registratori telematici al fine di poter accreditare nei sistemi dell'agenzia delle entrate i registratori e far sì che questi comunicano correttamente le chiusure fiscali grazie mille salve